Amici miei, dovete aprire le porte ed entrare a portici, in teatro, perché il teatro è importante, il teatro è cultura e la gente generalmente va allo stadio, va al cinema, ma il teatro è la cosa più importante anche perché in teatro se uno un attore sbaglia, non è che dice scusato, sbagliato, faccio nulla di nuovo c'è il pubblico che sentenze, quindi non si può sbagliare il teatro, il teatro si ama quindi aprire le porte, andate a portici, andate in teatro, un abbraccio da Tori Sperati